La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Il premio che andiamo a consegnare è Eccellenza dell'Anno, Innovazione and Leadership, fabbricazione di prodotti farmaceutici. E la Awards va a Novo Nordisk! Un bel applauso a Novo Nordisk! Eccoli che si apprestano a raggiungermi qui sul palco per essere diventata leader globale nel settore farmaceutico attraverso una continua attenzione alle esigenze dei pazienti, unita a un approccio sostenibile e responsabile per l'adozione di tecnologie emergenti che hanno permesso di migliorare i processi produttivi e garantire un elevato livello di precisione e sicurezza. Complimenti a voi! Diamo il nostro caloroso benvenuto a Francesca Cogliana, Head of Public Affairs della Novo Nordisk. L'azienda che questa sera la dottoressa Cogliana rappresenta è un'eccellenza a livello mondiale nel campo dell'industria farmaceutica ed esporta i suoi prodotti in ben 170 paesi. Quali sono i pilastri e i valori su cui si fonda la vostra azienda e che vi hanno permesso di raggiungere dei risultati così importanti? Novo Nordisk si occupa da oltre 100 anni della cura delle malattie croniche, come il diabete e l'obesità e delle malattie rare. È una lunga storia di passione, determinazione ed eccellenza ed è questo che ci guida ancora oggi. Una delle vostre mission è proprio guidare il cambiamento per sconfiggere gravi malattie croniche. Come perseguite questo obiettivo? Riteniamo che oggi sia fondamentale cambiare il modo in cui approcciamo all'innovazione in salute. Secondo noi è il momento di parlare di un nuovo paradigma che si fonda necessariamente sulla ricerca clinica e quindi sull'eccellenza delle cure e unisce a questo una grande attenzione nel miglioramento concreto della qualità della vita delle persone e soprattutto nell'impatto in termini di sostenibilità ambientale. È un concetto di salute ampio che quindi richiede certamente la collaborazione, il dialogo e l'impegno sinergico di tutti gli attori coinvolti nel settore. La Novo Nordisk questa sera ha ricevuto l'award Le Fonti che prena la sua posizione di eccellenza nel settore dell'industria farmaceutica. Cosa significa per lei e per il suo team questo traguardo? Sicuramente questo award è assolutamente importante. Ringraziamo ovviamente di questo premio. Sicuramente è la conferma che dobbiamo continuare ad andare in questa direzione con tutto l'impegno quotidiano per fare sempre meglio.